in una notte scura e tempestosa due coraggiosi bussano alla porta di una casa infestata dai fantasma e si racconta che in quella di Mora si verificano spesso delle strane apparizioni non è educato guardare dal buco della serratura sono proprio decisi ad entrare quello piccolo mi è simpatico in fondo mi somiglia questo invece somiglia troppo al vecchio lò il mio amico probabilmente sarà affamato provvediamo subito mi diventa sempre più antipatico ora devo occuparmi di quest'altro speriamo che dorma bene buonanotte amico a questo punto il vecchio lord si è arrabbiato gli uccelli che hanno le penne uguali si uniscono fra loro perché non dovrebbero fare la stessa cosa i fantasmi? grazie a tutti